ciao a tutti io sono daniele come c'è enrico e questo è play cool per oggi abbiamo il quarto episodio di piazzamento giocatori sei contento enrico ben tornato bentornato buon anno siamo qui pronti belli freschi spumeggianti per i nuovi giochi dell'anno inizio io parlo di giochino dai andiamo veloce scattanti faccio una piccola premessa che mi ha ispirato per i giochi di oggi a natale si gioca finalmente con tutti e soprattutto posso giocare con antonella mia moglie è fantastico perché noi durante l'anno giochiamo in tanti con i vari gruppi ludici e per assurdo non gioco quasi mai da solo con antonella e quindi già parlerò di due giochi per due giocatori che finalmente abbiamo potuto rifare dopo un po di tempo e il primo gioco di cui ti parlo non so se lo conosci è questo si non ho giocato conosco sì sì da idos of time è un gioco che ho scoperto qualche anno fa forse del 2014 2015 forse questo un gioco molto affascinante perché è costituito praticamente da un mazzettino di 18 carte è un gioco velocissimo molto semplice molto particolare perché alla fine è un draft è un draft che si svolge in tre round ogni round ai cinque di queste bellissime carte sono con dei disegni molto belli molto particolari è appunto come ogni draft come tanti altri giochi si sceglie una carta le altre quattro le passi al tuo avversario l'avversario poi di quelle quattro ne sceglie una passa le altre tre così via fin quando tutti e due hanno scelto cinque carte nel secondo round si rimpingua con un modo particolare per ritornare ad avere cinque carte in mano e si rifà il solito draft dopo il terzo round uguale si ritorna ad avere cinque carte e alla fine si costruiscono questi palazzi molto particolari e nella sua banalità però non è banale cioè non è così semplice giocarlo perché alla fine le carte come vedi hanno in alto e in un angolino un simbolo può essere la torre per le fortezze questo sorta di papiro per le biblioteche e così via sono cinque simboli tre carte per simbolo fa 15 come ben sai visto che le tabelline sono note a tutti ne avanzano tre di carte che non hanno simbolo tipo questa che danno dei poteri queste carte queste carte qui per esempio cosa c'è scritto raddoppi il totale del tuo seme più numeroso questo qui lo chiama seme nel gioco in realtà per me sono dei simboli ma molte carte per esempio questa ti dice alla fine farai sette punti sei la maggioranza delle torri rispetto all'avversario non giocate a terra ci sono delle combo che si creano quindi si creano parecchie combo e le combo poi facendo il draft tu devi ragionare su quelle che può fare l'avversario in base a quello che ha giocato l'avversario devi stare attento a non rego da due alla fine basta che tu fai un punto in più dell'avversario non serve che fai 2000 punti fai 31 a 30 hai vinto non è che per favore di fare 60 punti 80 o 100 punti punteggi infatti sono molto variabili dipende da come lo si gioca ma anche se non è molto quotato come gioco non è neanche l'ultimo degli stronzi come direbbero le storie teste e le storie tese per un giochino eh sì bisogna un po' moderare i tempi però in realtà il gioco a me piace molto e dura ripeto se lo giochi con un po' di impegno a ricordarti ogni piccolo particolare ragionare su quello che potrebbe fare l'avversario ti dura un quarto d'ora ok se lo giochi molto velocemente cinque minuti hai fatto una partita perché la fine fai un draft cinque carte fai il calcolo del punteggio ridistribuisci le carte un altro draft è la meglio di tre anche cioè se fai così capita spesso che per la fine chi perde vuole la rivincita poi se pareggi fai la bella e arrivi almeno tre partite te le fai mezz'oretta tranquillamente è molto simpatico perché poi anche se sono solo 18 carte poi una volta che le conosci tutte sei magari anche come regolarti sui round successivi però ci devi ragionare un pochettino non è assolutamente banale la cosa assurda l'unica cosa che posso dirti è che nonostante sia 18 carte un blocchettino per segnare i punti e una matita dell'ikea costa 20 euro sto prodotto almeno io l'ho pagato una roba improponibile se non fosse stato perché era la fiera di modena c'era uno dei 3x2 particolari altrimenti non l'avevi mai preso però te lo suggerisco se non l'hai mai provato potrebbe piacere adesso sono curioso di vedere il prezzo anche qui in svizzera perché sinceramente ho visto anche i negozi che ci hanno un po di tutto nel senso questi negozi non specializzati nei nei giochi da gamer diciamo si trova abbastanza comunemente voglio vedere il prezzo qua qual è perché 20 euro mi sembra veramente tanto effettivamente diciamo una domanda hai provato o hai visto tides of madness perché ne ho sentito parlare che come il successivo introduce semplicemente una iconica in più che pian piano puoi impazzire prendendo dei punti però se diventi troppo matto così si funziona sempre con cutulo e la follia no quindi guadagni dei dei punti in più però attenzione a non prenderne troppo di questa follia perché sennò impazzisci no non lo conoscevo non conoscevo questo titolo adesso magari mi informo allora te la butto lì magari visto se ti è piaciuto magari puoi vedere pure la variante certo altri 20 euro eh infatti infatti magari ci appattentiamo di questo che bello ma va bene perché mi parli tu va bene dai io passo passo alla mia prima cosa sono andato questo natale in spagna con la famiglia di mia moglie passano un bel tempo tra i 15 e i 20 gradi però stavo lì che bello però stavo insomma frequentando gente che in realtà non gioca mai giochi da tavolo niente quindi mi sono portato dietro qualcosa che potesse essere apprezzabile anche in un ambiente del genere sono riuscito a fare un paio di partitine a quello che in inglese si chiama happy salmon e che in tedesco hanno chiamato comunque una parola inglese ma l'hanno cambiata lucky lux forse perché suona meglio lux vuol dire salmone in tedesco e quindi se ritorna però suona meglio lucky lux tanto che sia happy o sia lucky questo non cambia niente perché il gioco è molto semplice si sta da tre a sei giocatori non so se conosci happy salmon no infatti ti ascolto è una descriverei che al limite di cosa si può definire un gioco un'attività divertente per chi appunto non per per casual gamers come possiamo dire con gente che non gioca mai magari puoi giocare perché se ti metti in piedi circolo da tre a sei persone e non vedo perché non potresti prendere anche due set di carte giocare anche in più si crea più caos ma insomma importante che ognuno ha il suo mazzetto di carte come queste qua le carte sono di quattro tipi quelle che ti possono capitare si gioca tutti insieme quindi si prende il mazzetto vedi che carta ti è capitata e che gli altri vedono contemporaneamente che carta gli è capitata e se c'è per esempio cerchi la persona che può fare con te un tipo di saluto se hai questa carta qui sopra allora devi trovare qualcuno che ti dia il saluto del pugno no allora inizia a dire in tedesco se vuoi se non in italiano il pugno pugno no checker faust in tedesco quindi hai checker faust e devi trovare qualcuno che nel circolo abbia al momento la stessa carta ed è frenetico perché tutti quanti stanno cercando qualcosa le altre tre cose che si possono cercare sono lo scambio e quindi cerchi qualcuno che cambi posizione con te vediamo le altre due una è l'i5 e poi quello che dà il nome al gioco che è la lucky lax o happy salmon e quindi cerchi qualcuno che faccia un saluto con la coda di un salmone e appena lo trovi puoi scartare la carta perché l'obiettivo del gioco è scartare tutte le carte se non trovi nessuno dice oddio non sto trovando nessuno con questa carta puoi dire ah non trovo nessuno con lucky lax per esempio sta lì da mezz'ora e non ne trovo nessuno lo metto sotto e passa a quella successiva ovviamente appena lo metti sotto era proprio il momento che c'era quello lì che c'era la carta lucky lax al mondo però quelle la legge di marfi un altro gioco quindi l'attività al gioco va a via veloce tra risate e c'è una variante che ha pure funzionato che io pensavo non funzionasse fosse una palla invece ha funzionato bene che è la variante silenziosa in cui fai solo il gesto frevichemente semmi un matto cercando qualcuno per scambiarti però silenziosamente quindi ma quanto dura tre minuti forse una partita però un po di risate lo puoi giocare un paio di volte tre volte però lo puoi giocare con tutti ma più di un paio di volte non lo vai a giocare perché a meno che non sono bambini con cui giochi cioè comunque io almeno ho trovato come un'attività che puoi provare così per divertimento e farti una risata però ok ok ah bello simpatici mi piacciono questi giochini così li trovo sempre molto divertenti proprio per i neofiti per stimolare un po magari serve un po di spazio tipo so quadro altri giochi simili dove devi fare un po di casino però è divertente di che ti chiede di che ti chiede di che mi sa mi sa di sì mi sa di sì anche quello delle galline come si chiama Antonella quello delle galline l'aiuto dalla regia però no 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 quello dove devi trovare i simboli simili avevamo provato uno a Modena sempre dove devi trovare due immagini di galline assurde molto simili ma le devi trovare proprio uguali 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 devi fare un casino gallina siti mi suggerisce dalla regia l'esperta Antonella ed è molto particolare molto particolare passiamo all'altro giochino mio dai l'altro giochino se tu lo conosci e lo possiedi anche vediamo ti faccio vedere una cosa vediamo se lo riconosci questo è già giusto che certo che ce l'ho ma certo che ce l'ho beh 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 il bellissimo adesso viene difficile il bellissimo patchwork esattamente si nota infatti dal patchwork come tabellone segnatempo che è un gioco che ho provato tempo fa parliamo boh forse un annetto poco più non l'avevo mai provato anche se ero sempre incuriosito grazie a uno dei tanti amici appunto dei vari gruppi di gioco e volevo comprarlo volevo comprarlo volevo comprarlo però per un motivo per un altro non l'ho voluto comprare nuovo che non mi ricordo quanto costava alla fine ho trovato un altro amico che lo vendeva ha detto te lo prendo prezzo morbido eh me lo sono preso poco prima di natale quindi a natale ci abbiamo giocato parecchio l'ho fatto anche provare a mio nipotino di 12 anni alla prima partita mi ha seccato subito quindi abbastanza semplice come gioco perché per chi non lo conoscesse alla fine noi ci divertiamo a fare un patchwork cioè una simpatica composizione ognuno ha una sua reticolato 9x9 e si formano con tanti di questi pezzi in stile tetris si forma un bel cerchio una catena di questi pezzi e tramite un pedone che gira appunto tra i vari pezzi di questa catena si potranno acquistare a turno questi pezzi che dovranno essere messi nella griglia 9x9 in maniera un po' intelligente in maniera tale da non lasciare buchi da divertirsi un po' a fare un po' di tetris perché poi tutti i buchi che rimangono a fine partita ti tolgono due punti ed è capitato più di una volta di finire in negativo sì 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 ho iniziato così alla grande però a seconda di come vengono messi i pezzi può capitare perché i pezzi hanno un doppio costo hanno un costo in bottoni perché qua giustamente non ci sono monete ma ci sono bottoni e per esempio questo pezzo qui bello grosso che ti occupa tanti pezzi ti costa 5 bottoni e siccome è bello grosso ti costa 3 unità di tempo e le unità di tempo ti fanno avanzare in questo simpatica in questa simpatica plancetta che c'è anche double fast ma questa versione qui mi piace meno questa simpatica plancetta che non so numericamente quanti sono non li ho mai contati un giocatore professionista l'avrebbe fatto subito che ti se ne ogni passo tempo ti fa muovere in questa casella una volta che arrivi al centro è finito tu non giochi più e non hai più tempo per disegnare per fare il tuo patchwork e quindi gli spazi vuoti ti seccano due punti e invece i punti che tu puoi fare sono dati dalle varie rendite le rendite che sono date da i bottoni che sono presenti disegnati sui vari pezzi che non tutti i pezzi hanno però c'è sempre questo bellissimo pezzo che ti costa non tanto ma non ti dà nessuna rendita quindi bisogna stare attenti a cercare di prendere dei bei pezzi tipo questo che ti dà una bella rendita di 3 però guarda quanto costa 10 bottoni e 4 unità di tempo e tra l'altro ti copre ben pochi pezzi bisogna capire è un gioco molto di tempismo di tattica devi osservare il cerchio capire quale pezzo tipo questo di nuovo bei tre pezzoni perché le rendite sono sparse sono sono parecchie quindi se tu riesci a comprarlo subito comunque nei primissimi turni ogni volta che superi una casella bottone ottieni la rendita cioè per ogni bottone che hai messo nella tua plancetta ti guadagni il corrispondito di bottoni e alla fine vince chi ha più bottoni e infatti c'è un'ultimissima rendita prima di finire nel centro e non giocare più e devi cercare di stabilire una buona misura di acquisti rendite secondo me non l'ho ancora capito alla perfezione come giocarla al meglio anche se me la cavo abbastanza bene però non è assolutamente banale infatti il gioco è del buon ue lo chiamiamo noi amici di ue ue rosenberg famoso per agricola e tanti altri giochi agricoltosi ue ue è un po la napoletana da poco è ritornato poi a perseguire questo giochino di unire pezzi con una festa per odino c'è riprovato ogni gioco è fatto con con sasch garden se non sbaglio si chiama così poi c'è indian summer e ora non uscirà pure un altro c'è divertito gli è piaciuta sta sta meccanica e la piazza un po ovunque un po come quelli che ci buttano ormai curcuma ovunque quando mangi e questo che ci piazza questo simpatica meccanismo ci sono quelli che si sono fissati quei dadi tipo feld che mette dadi ovunque anche quando magari non servono uno si innamora di una meccanica lui si è innamorato di questa ci posso stare mi piace quindi sì sì mi piace anche se per esempio io ho provato una festa per odino che è un piazzamento lavoratori molto molto tosto un bel cinghialone e sta rottura di scatole di stare lì a comprare questi pezzi piazzarli boom mi distraeva il bello del gioco era il piazzamento lavoratorio come tutti quei tipologi di giochi organizzare le combo tra capire dove piazzare prima però sì però è pure vero che che dava è un po quello che lo differenzia tra tanti altri titoli se no di rosenberg del piazzamento lavoratorio di rosenberg o no sì però invece a me mi ha distratto e non me l'ha fatto anche tantissimo perché già ve lo pesante tu ti ritrovi da subito oltre 60 posti dove piazzare i tuoi lavoratori sti vichinghi non sanno dove andare sperduti inoltre devono stare attenti a prendere i pezzi giusti per coprire al modo migliore il quadrante delle eventualmente anche altre isole adesso non parliamo pure di no 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 lì secondo me è esagerato qua invece è il senso del gioco tutto il gioco è fare quello giochi con quel meccanismo e te lo giochi bene aggiungo solo una nota la la cosa del punti negativi siccome mi dava fastidio sono andato a cercare online non era appunto anche tu infatti non siamo unici no in questa cosa dei punti negativi cioè i più bravi sono sicuro non hanno mai fatto punti negativi però per noi comuni mortali ogni tanto capita quindi sono andato a cercare online in pari ci sia una variante che in realtà è un modo di dire in cui invece di toglierti i punti a te puoi darle all'avversario tanto essendo un gioco per due così almeno nessuno vince con punti negativi chi deve vincere vince è un modo meno triste di dire hai vinto con meno cinque punti perché è capitato hai fatto meno cinque io ho fatto meno otto hai vinto tu perché algebricamente almeno ci sono punteggi positivi nel vincere in particolare per chi non ha numeri negativi ci sta adesso io ti faccio vedere io non credo che tu sia una passione di questo gioco ma non si sa mai questo è uno dei veramente un gioco che a cui sono ci tengo abbastanza più che altro per come ho trattato il prodotto in sé diciamo questo è la figura che ecco adesso non ce l'ho kylo ren ancora non è uscito per imperial assault però imperial assault è il primo gioco in cui ho detto senti chi se ne frega se non so dipingere io provo inizio e vado a dipingere e quindi facendo un po un lavoro tipo per esempio luke skywalker sembra che si è scottato al mare no c'ha questa cosa molto accesa ha sbagliato gradazione di crema solare si vede però a me mi interessa è carino piuttosto che vederle tutte grigie ho detto ah voglio farle tutte dipinte quindi ho fatto pure questo mostro qua gliel'ho fatto tutto con la neve come se fosse su dove era che c'era la neve hot mi sa sì non sono di buona memoria però sì ed è un gioco che veramente un po spiace al mio cuore perché ci abbiamo giocato mavi mi piace il tirare i dadi eccetera dopo un po di tempo però è rimasto devo dire nella scatola è rimasto lì a prendere polvere non ho preso più espansioni mi chiedeva anche un po perché a parte che leggevo un piccola parentesi leggevo un articolo su just nerd punto it proprio oggi diceva uno dell'asmo di un tizio asmo diceva nel 2016 sono usciti tipo 3500 giochi se un gioco nelle prime due settimane non riesce a sfondare e già ne va nel dimenticatoio cioè anche per colpa di per colpa per merito di kickstarter però c'è un mercato che veramente sovrappopolato e quindi anche per quel motivo probabilmente il povero imperio assolto è rimasto dentro la scatola che mi piace vedere anche giochi nuovi vedere che cosa esce provare qualcosa di nuovo andare al gruppo giochi e provare qualcosa di nuovo non sta sempre a giocare lo stesso però quanto sta che rimaneva nella scatola e poi è venuta l'app non so se conosci però legends of the alliance non ti faccio vedere come funziona perché non è che non voglio spendere un'oretta qua però ti faccio vedere come come si vede anche su un cellulare si legge abbastanza bene su un tablet lo vedresti molto meglio e ti permette di giocare in modo cooperativo questo gioco che se no altrimenti giocheresti i cattivi con un cattivo contro tutti i buoni alla descente perché il gioco imperio assolto è basato fondamentalmente anche sul dungeon crawler descente la plancia è modulare e ci si muove sulla plancia cercando alla fine di ammazzarsi l'uno con l'altro di raggiungere degli obiettivi fatto sta che l'app permette di dare al computer all'intelligenza artificiale il ruolo del cattivo quindi di collaborare tutti insieme io dico che bello me la scarico proviamo a vedere se con mai ci facciamo un'altra campagna però insieme contro non mi ha convinto sono un po deluso da questa app perché è fatta bene stavo pensandoci proprio oggi ripensando ricollezionando un pochino i pensieri è fatta bene la grafica è fatta bene il sonoro c'è tutta e sono sicuro che la espanderanno con più contenuti quindi sono ancora speranzoso che poi ma il problema principale che mi sono reso conto che c'è è che non toglie dalla dalla gestione del gioco tante cose che potrebbe fare l'app e quindi per dirla in breve cioè se su io sono un po tiubante su le case della follia perché mette troppo nella app cioè anche i quiz li devi risolvere nella app a volte stai lì se stai giocando gioco sul cellulare quasi che va bene però molto molto verso la però questo però un po troppo poco nel senso non ti dice dove non tiene gestione di dove rimangono i cattivi sulla plancia te lo devi gestire e va bene non tiene conto di quanti danni prendono delle condizioni token condizioni che vengono messi agli uni agli altri cioè non tiene conto di una marea di cose e ti l'unica cosa che fai ti crea degli scenari quindi ti dice adesso paiono degli stormtrooper oppure adesso appare appunto dart vader che appare in questa posizione qui però lo gestisci tu nel senso ti dice adesso più o meno farà questa cosa però poi lo gestisci tu quello che gli succede se morto gli devi solo notificare tu all'app quando a un certo punto è morto e devi toglierlo dalla non lo sono non non funziona come mi sarebbe piaciuto che funzionasse forse non era possibile in altra maniera non è che sono stato lì alle ore a pensare al design dell'atto quindi però non mi ha convinto insomma fondamentalmente è un peccato perché il gioco mi piace penso che non so volevo togliere un po di quella polvere eh sì quello è secondo me un gioco io ci ho fatto la prima campagna però ho avuto la fortuna di ritrovarmi a giocarlo quattro contro uno con un ottimo uno perché secondo me è un gioco abbastanza ben fatto io adesso non sono un grosso esperto di questa tipologia di giochi ma nel senso che sono abbastanza equilibrati le varie le varie partite di tutta la campagna e quindi se non è bravo quell'uno che deve gestire tutti i cattivi rischia di essere dominato perché poi comunque in quattro che fanno brainstorming che comunque gestiscono dei personaggi che evolvono molto durante la campagna devi giocarlo con uno bravo e abbiamo giocato con uno molto bravo tant'è che nella prima campagna è stato molto molto quasi cinematografico siamo arrivati all'ultima mossa l'ultimo momento con un numero di partite vinte pari l'ultima l'undicesima l'abbiamo vinta noi buoni con una bellissima scena dove c'era proprio chubecca che ha dato un pugno in testa a darmai immaginando sembrava un film con un lancio di dati spettacolare quindi essendo poi in cinque riuscendo a giocarlo anche con antonella amici comunque persone che nel tempo perché è durata mesi perché non sempre riesce a fare tante parte in poco tempo è stato bello però effettivamente è un gioco impegnativo pesante e ora infatti con difficoltà stiamo portando avanti praticamente siamo bloccati la seconda campagna sì la dici pesante dal punto di vista della gestione di tutti i token o proprio difficile come gioco in tutto perché comunque richiede tempo richiede impegno dal punto di vista sia della cooperazione sia di per chi gioca da solo la parte dell'impero a gestire tutto ti devi segnare tutto devi ragionare sulle cose che ti devi prendere per le come upgrade per nelle partite successive è molto a me è piaciuto molto io li trovo molto belli poi ripeto secondo me ben fatto ben equilibrato anche se alcune partite sembra che non puoi mai vincere contro l'impero in altre però vedi che ti viene più semplice in particolare quando appare lui eh sì quando appare lui anche se quando appare lui per assurde coincidenze o forse perché ci impegnavamo di più lo prendevamo a botte come pochi però sicuramente metteva paura a me dava più fastidio il robottone che hai fatto vedere prima non mi ricordo mai il nome di quelle et e e et st ogni tanto andavo provavo a dargli due colpetti ma poi il rivale ti schiaccia come un funghetto ti fa molto male devi girargli attorno fuggire cercare di evitarlo in tutti i modi eh complesso eh troviamo il giochino proviamo il giochino nuovo vai vai inizio io vado io ma sì se vuoi sì 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 devo ragionare perché il giochino nuovo che hai ideato da tempo è un po' particolare cioè io ti devo descrivere un futuro gioco perché poi chissà magari da questa idea potrebbe nascere un bellissimo mashup appunto di un di due giochi reali ti devo descrivere come se fosse uno solo quindi ti descrivo questo gioco molto particolare dove è pieno di gemme bellissimo e tramite delle carte devi riuscire a combinarle un po' come visto prima con patchwork no di intrecciarle no per riuscire a completare prima degli altri avversari una griglia e riuscendo quindi a completare della griglia riesce a conquistare questi gettoni gemma no che poi grazie ai gettoni tu riesci poi a fare dei punti il primo che arriva un tot di punti vince questo più o meno il mio mashup allora il fatto di allora sono solo due ma sono solo due giochi ma chi l'ha inventato questo gioco è difficilissimo allora intrecciare io prendo le parole chiave cerco allora bisogna intrecciare poi delle griglie delle plancette con delle griglie dove devi intrecciare delle carte le carte poi ti permettono di ottenere dei dei gettoni ma i gettoni poi ti permettono di fare dei punti e il primo che arriva a certi punti vince ricordandosi che però le gemme sono fondamentali perché c'è un sistema di punteggio particolare allora siccome ci seguono alcuni vedono il video magari qualcuno nei commenti lo dirà noi lo lasciamo lo lasciamo in sospeso questo mashup davvero mi lasci così va bene per me va bene lo lasciamo fra due settimane tanto ci rivediamo tu hai impegni fra due settimane no però non me lo dico nemmeno offline io non lo voglio sapere fino al prossimo e non voglio sapere il tuo o quantomeno non vuoi che me lo dici la prossima volta lo faccio un pochino più difficile da capire perché il mio secondo me è più facile da capire perché beh ma te lo dico me lo so scritto un pochino un estratto dalle regole sì scritto tutte le regole ti leggo sono un estratto non è che ho scritto solo l'estratto ci mancherebbe allora fammi vedere intanto una cosa ecco mi concentro allora il giocatore di turno deve piantare in un campo una carta dalla sua mano rispettando il colore il numero presente sul campo stesso in seguito può decidere se scambiare alcune carte nel mercato in altri giocatori a meno che questi non rispondano una carta speciale che lo obbligherà a pescare più carte dal mazzo più amanti si legge appena un giocatore si ritrova con una sola carta in mano e questo non capisci dovrà gridare fagiolo altrimenti sarà costretto a scartare d'ora in avanti le proprie carte seguendo la sequenza in cui si trovano in mano interessante interessante penso di averne capito metà va bene però ne riparliamo fra due settimane va bene tu per ripensa alle gemme a tutte queste carte punti l'intreccio comporre non dormirò la notte non dormirò la notte mi vado a rivedere il video appena pubblicato così facciamo esatto lo vediamo tante volte per riuscire a ragionare e capire anche nel numero di views è fondamentale con tutti i soldi che ci facciamo a me sta diventando di mi raccomando è anzi lo proporò come sfida anche i vari amici magari qualcuno ne capisce più di noi mi fa piacere come al solito la chiacchiera ci becchiamo la prossima volta vediamo un po quali erano le soluzioni ciao ciao Enrico ciao a tutti